2 settembre 1944, 2 settembre 2024. Tante le iniziative volte a commemorare l'ottantesimo anniversario della liberazione di Pesaro dal nazifascismo. Celebrazioni cominciate domenica pomeriggio al cimitero di Villa Fastigi per commemorare il patriotico eroismo di Giusto Lalia e Francesco Di Lullo, soldati della brigata Maiella, che dall'Abruzzo risalì l'Adriatico per liberare Pesaro. A Pesaro, Lalia e Di Lullo morirono e furono sepolti nel cimitero di Villa Fastigi, dove è confluita l'iniziativa allestita dalle segreterie regionali dei sindacati pensionati di CGL, Cisle e Will, assieme ad Ampi. È per noi estremamente importante partire da oggi, perché con le delegazioni che ci hanno raggiunto proprio dall'Abruzzo, in particolare da Casoli, perché è lì che nasce la brigata Maiella, e ha percorso a ritroso verso il nord le regioni Marche, la regione Emilia-Romagna, per arrivare sino nel Veneto. Per noi è un momento importante perché abbiamo scoperto che proprio due Maiellini sono sepolti nel cimitero di Villa Fastigi, e quindi qui è il luogo dove noi vogliamo rendere omaggio e riconoscenza a questi due giovani ragazzi, poco più che diciottenni, che muoiono nella battaglia per liberare Pesaro del 2 di settembre. Lalia e Francesco Di Lullo erano due Maiellini e hanno combattuto negli ultimi giorni per la liberazione di Pesaro, che è stata un'operazione estremamente difficile. È vero, il gruppo Maiella era stato incorporato nel secondo corpo polacco, erano stati guidati da tenente inglese e si erano suddivisi quelle che erano la perlustrazione, l'entrata, la penetrazione a Pesaro che era difesa dal primo corpo paracadutisti tedeschi, che erano un corpo molto preparato. e quindi sapevano già che la loro battaglia sarebbe stata una battaglia estremamente dura. D'altra parte venivano anche da un lungo periodo di mesi di battaglie, di liberazioni, ed erano veramente estremati ma non si sono mai tirati indietro. Allora, Lalia, secondo una testimonianza, è morto insieme a Luciano Lamarca. Noi conosciamo questo nome perché la strada lungo la ferrovia che in genere facciamo per andare al mare è intitolata proprio a lui e ha cercato di difenderlo, di proteggerlo, ma Luciano Lamarca prima e poi giusto Lalia sono morti pressoché insieme. Francesco Di Lullo è dato per disperso nella battaglia lo stesso lungo la ferrovia, era del tredicesimo plotone, in un scontro serale e viene ritrovato solo dopo qualche giorno. E lì dalla testimonianza di un comandante viene fuori che probabilmente mentre era intento a sparare ai tedeschi che stavano avanzando lungo le strade, lungo le vie della città, sia stato colpito da fuoco amico, almeno così apparentemente sembrava. Quindi è con grande dolore che poi hanno recuperato questi uomini. Pesaro è stata difficile perché la battaglia per la sua liberazione, perché sono morti sia Filliter, sia un tenente polacco, sia questi tre maiellini che insomma in genere non avevano perdite così vaste. Naturalmente il secondo corpo polacco ha avuto perdite maggiori e quindi siamo ad una visione per cui questi cinque giorni di combattimenti, quattro strada per strada, siano stati così pesanti per liberare la città. Solamente il 2 settembre alla sera finalmente riescono a ripulirla, a liberarla completamente e così accertarsi che il San Bartolo fosse libero dalle forze tedesche. Grazie a tutti.